Una cordiale buona serata gentili telespettatori e benvenuti al circolo sportivo Garbaglia dove sta per andare in scena la partita valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia della Lega Colcio 8 tra zio Mauro Maccarese, San Giovannella e Cottini Staibano Gomme batte adesso il Cottini, fischia l'arbitro, lungo lancio ancora a cercare gli attaccanti colpo di testa da parte della difesa della San Giovannella a spazzare con Dell'Anno che può trovarsi davanti alla porta, poi arriva la conclusione la conclusione però del numero 16 Cerrone, traversa Pasterotti che cerca di saltare un avversario Dorazio scarica per Volpiani, quindi per Volpi sulla sinistra attenzione alla sovrapposizione del terzino, palla in mezzo ancora a cercare Mennoni che viene scavolcato, riesce in qualche modo Dorazio si porta la palla sul sinistro, scarica per Pasterotti, conclusione e arriva il vantaggio da parte della Cottini Staibano Gomme Dorazio per Pasterotti che dal vertice destro dell'area di rigore conclude il portiere Molona tocca ma non è abbastanza adesso lungo lancio infatti del portiere Galassi, ancora però solo maglie giallonere con Dell'Era in mezzo all'area che viene pescato controlla col destro, conclude con lo stesso piede Dell'Era pareggia a pochi secondi dalla fine di questo primo tempo Croce che scarica sulla sinistra per il numero 4 attenzione adesso a Volpi che si porta la palla sul sinistro conclude salvataggio davanti alla linea viene attaccato ancora da Cerrone Croce scarica ancora per uno scambio bellissimo col tacco da parte di Volpi colpo di tacco per Croce che col destro mette la palla all'angolino basso dove Molona non può arrivare attenzione alla numero 8 Marchetti che prova a saltare un uomo dell'anno lì dall'area di rigore, Dell'Era ancora per Marchetti davanti alla porta, esce Galassi poi la palla rimane lì e Dell'Era la mette dentro due pari, doppietta per Dell'Era che ha recuperato una respinta corta di Galassi cinque uomini in barriera per il Cotini-Stebano-Gomme occasione ghiottissima tiro di Marchetti e arriva il 3-2 la San Giovannella rimonta e con Marchetti allo scadere del tempo regolamentare Sigla il 3-2 che a questo punto potrebbe essere veramente il risultato finale di questo match verso un compagno ancora triangolo che si chiude con Di Vittorio che colpisce il suo portiere Galassi che era uscito infatti la porta è sguarnita lungo lancio della San Giovannella addirittura in porta la palla che colpisce la traversa di controbalzo prova a metterla in mezzo niente da fare per Massimo Chirico rinvio dal fondo per Molona ma l'arbitro fischia qui lo zio Mauro Maccarese-San Giovannella vince per 3-2 contro il Cotini-Stebano-Gomme dopo una rimonta e decide una punizione di Marchetti a soli due minuti dalla fine di questo match sì vabbè prestazione mia è importante ma contava essendo tanti ragazzi nuovi far bene e iniziare bene questa stagione sono assolutamente contento per zio Mauro per Bruno che mi sfuggiva il nome scusami e per tutto quello che riguarda loro io sono la prima esperienza insomma vediamo come andrà dai la partita sin dall'inizio abbiamo visto che non è stata facile siamo andati vicino al gol due volte la palla non è voluta entrare loro alla prima occasione l'hanno buttata dentro non è stata facile però per fortuna alla fine è andata bene sicuramente la squadra è questa mancheranno 4-5 elementi che stanno ancora in preparazione e poi si alterneranno uno o l'altro io ringrazio Bruno Savera che mi ha dato questa opportunità con lui andremo avanti per tutta la stagione seguiremo bene la nostra squadra per fare sempre meglio